Saldi in anticipo a Teramo con la notte dello shopping che a partire dalle 21 fino a mezzanotte darà il via agli sconti di fine stagione. Nei negozi del centro cittata stasera per poi proseguire nei prossimi giorni sconti dal 30 ed oltre, a seconda dei punti vendita. L'iniziativa è stata messa in piedi in extremis dal consorzio shopping in Teramo Centro, che di fatto solo un paio di giorni fa ha deciso di proporre la serata con un orario di apertura prolungata e sconti da record. Un modo per incentivare gli acquisti dopo un periodo che secondo i commercianti è stato negativo per gli affari. Abbiamo deciso di anticipare festeggiando la serata del venerdì con i saldi, quindi Teramo speriamo che sia piena di gente per le strade che vengano ad acquistare con i saldi. Che anno è stato questo per il commercio terramano, in particolar modo quello del corso dopo la fine, se così si può dire, dei lavori? Non è tanto la fine dei lavori, diciamo che è un fatto generale, nazionale, che c'è stato un po' un calo delle vendite. Credo che si possa riscontrare in ogni città, non è soltanto un fatto di Teramo, assolutamente. I saldi diventano, come dicevo, importanti sia per noi, ma anche per gli acquirenti, anche per i nostri clienti, proprio perché troveranno delle offerte davvero vantaggiose in termini economici. Un evento però organizzato in extremis. Sì, questo purtroppo può essere il dato negativo, ma considerando che a Teramo ci sono delle manifestazioni collaterali che riguardano un po' la coppa interarmia che è partita da qualche giorno, purtroppo poi in termini economici mancano le risorse per affrontare le spese, per fare delle manifestazioni. Però, proprio perché non vogliamo far mancare questo anticipo, soprattutto per cercare di aiutare sia noi stessi che i clienti stessi, abbiamo cercato di farlo proprio in maniera veloce. Facciamo un invito a partecipare, i negozi saranno aperti dalle 9 in poi, quindi chi vuole acquistare prima di domani è invitato a venire.